Cari amici, vi ricordate la leggenda del premier inesistente Giuseppe Conte, molto meno famoso del poeta omonimo, avvocato, professore universitario e considerato un presidente del Consiglio privo di poteri in quanto pupazzo, marionetta di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio. Matteo Salvini che è forte della sua maggioranza nel paese e dunque si comporta da presidente del Consiglio e Di Maio invece che è forte dei suoi numeri in Parlamento. Conte è tanto vituperato e preso in giro anche per il suo curriculum un po' gonfiato a quanto pare, ultimamente si sta trasformando da marionetta a puparo, infatti in questi giorni ha preso decisamente l'iniziativa sul fronte europeo, andando a dire che Salvini non ha capito niente e ha preso anche forza sul tema delle autonomie, mettendo in riga i governatori e sostenendo che non possono avere tutto quello che chiedono, soprattutto Zaia e Fontana e provocando appunto una grandissima irritazione nei governatori stessi. Ma dove vuole andare Conte da grande? Molto probabile che Conte in questo momento stia approfittando della spaccatura enorme tra Lega e Movimento 5 Stelle per accreditarsi agli occhi dell'Europa ma anche di Mattarella come il possibile successore di se stesso, cioè se ci fosse un governo tecnico, magari 5 Stelle, Partito Democratico, ecco che Conte risulterebbe essere forse il nome migliore e quindi questo è il suo gioco in un momento in cui tutti stanno giocando per se stessi e non per la nazione.